Il nostro sommario Screening mammografico Presso Lusventi, ospedale di Marzana è più facile scoprire il cancro al seno Gastroenterologia Quale attività si svolge all'ospedale Fra Castoro Carrello della spesa, utili consigli AIDS giornata mondiale I dati e le riflessioni Tumore del rene, come viene curato oggi, come si guarisce Geriatria, un nuovo direttore all'ospedale Orlandi di Bussolengo La salute del pianeta, zero CO2 ovvero come ridurlo l'inquinamento Una pagina di salute e una ricetta all'insegna del metterci a tavola